c'è un ossacchiotto c'è un ossacchiotto c'è l'ossacchiotto ma è l'ossacchiotto Marinella ha paura pure degli alberi pure gli alberi a posto guarda 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 mi hai fatto correre tu prima hai preso la scocciata ah era di qua vero guarda tutta la neve siete massimo io ho Guarda quel bambino come fa? Oh! Questo è caduto, si è trattato un femore. Ah poi, quello è caduto. Veramente, poveri. Ah, ecco. Oh! Visto, quella non è che... Ma pagna! Vuoi salire? No! Eh, allora andiamo. Tu hai detto che voglio salire. Uh, quello lì! Come fa? Come è che sta? Questo è il nostro carrello. Ahahah, che buono! Non è che è quello. No, Lele, io voglio questo però. Visto. Vado, vado, vado. Andiamo a vedere il presepe. Vado, vado. No, ci sono il presepe. Guarda! 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 No, ci sono il presepe. Guarda! 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 No, no! QueiVerhigh fuori. Chiudi. Guarda! 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 Adesso Bello! Guarda! Grazie.